Alice Muzza Vieni tutto Allora, ma tu hai mai tipo fatto un sogno erotico? L'altana del frerito Ciao, prederigno Ma tu conosci Luca Campolunghi? Sì Perché hai fatto quella faccia? Perché l'avevano chiesto in chat Sì, l'avevano chiesto in chat Perché avete un inciuccio? Vi siete baciati in bocca? Ma perché? No, non ci siamo frequentati Ah, veramente? Cavolo Bomba, simpatico lui L'ho conosciuto di recente Molto simpatico come ragazzo Molto carino Scusa, non voglio Cioè, veramente Fammi tu delle domande scomode Dai, fammi tu delle domande scomode Ma ci sono domande scomode No, davvero Hai la possibilità di farmi qualunque domanda Che vuoi Scomoda Non farti problemi Puoi chiedermi qualunque cosa Vai Dimmi Ti chiedo qualunque cosa No, no È un modo per rimanere nella mia bolla Rimanere nella tua bolla Vai, vai Eh, va da fuori Cosa? La situazione sentimentale Sentimentale Tutto bene Tutto bene Tutto bene Sono felice Con me stesso Ah, quindi sei solo? Sì, sono solo Sono solo Diciamo che sentimentalmente sì Felicemente Per volere delle altre ovviamente Eh, già Sottolineiamo Altro? Non c'è nessuno Non so Ah, ok Prego Eh Ma che domande scomode tu fa? Non so Ma visto che io passo sempre per la merda No, per tutti Perché faccio sempre le domande peggiori Che una persona possa fare Allora fammi Cioè Sto dando la possibilità di invertire Questo senso di marcia Fammi delle domande scomode Non so L'ultima persona che hai baciato Scusa? L'ultima persona che hai baciato Beh, non faccio mica il nome Scusami Quanto tempo fa? È una domanda scomoda? Pochi giorni Pochi giorni Ti sto rispondendo Porca di quella traia Ho risposto Ok Prego Eh, devo continuare? Eh, sì, sì Io tanto Guarda Trattami pure come se fossi proprio la tua valvola di sfogo Ma no A me ancora non hai fatto domande Che sai che cosa Tu quando è l'ultima volta che ho baciato un ragazzo? Come ho detto qua? Era vivo? Era vivo? Era ancora vivo Ok Ok E Vai, una domanda scomoda testa Prego Allora, ok E La persona che odi più al mondo Cioè Esiste una persona che odi? E Milito Chi è? Sì Sì La cazzo a chi è? Eh, sì Lui Oppure No, no, non mi dito Persona che odi più al mondo Eh, il fondatore di Luna Ah, ok Ho sentito il discorso l'altra volta Oh, Marta Rosato Marta? Una Una studentessa Poi? Ah, tocca a me, tocca a me Tu, qual è la persona che odi più al mondo? Ma sai che io non odio nessuno? Brava Perché l'odio non è mai la soluzione No, no, ma proprio perché è del mio carattere Non riesco a dire Brava Brava Questo dimostra che sei una ragazza comunque Di una certa Dolcezza Brava Poi? Allora fammi tu la domanda scomoda, vai La persona più falsa che conosci sui social Ma non posso fare il nome Ma scusa posso fare il nome La persona più falsa che conosci sui social Esiste? Esiste Oh, voglia Quindi mi esiste L'80% della gente che c'è sui social Insomma Non è che proprio mi faccia volare, ecco Ok No, è 70 75 Vabbè, c'è qualcuno Si salva Tu? Cioè, vabbè, tu Cazzo Cioè, tu hai mai conosciuto Qualcuno che Ti è stato vicino per No Qualcuno che è stato vicino per I capelli corti Ma sai che da quando Questa è bella Quando Da quando li ho tagliati Tutti mi guardano Mi fanno Ma sai che mi sono sempre piaciute Le ragazze I miei capelli a caschetto Ah, vedi Ecco, lì sono dei veri Sfruttatori Eh, sì Tutti Eh, sì Ti faccio questa domanda Un po' provocatoria Ma non sentirti provocata Se vuoi girati E abbassa lo sguardo In senso di Sconfitta E La domanda che volevo porti È Quanto è importante La bellezza in un ragazzo Ovvero Cioè, nel momento in cui Tu ti trovi contornata Da tanti fighi Della madonna Quali possono essere Quelli in stardust In death O Quel cazzo che ne so io Cioè A te un ragazzo colpisce Per l'estetica Però immagino Che magari tu poi Ti possa prendere Di un ragazzo Magari meno bello Ma che ti colpisca di più Sì Può essere? Sì Così funziona È così che funziona? Di impatto Vedi la bellezza Vedi l'esterno Poi quando ci parli Ovvio che non mi metterei Con un ragazzo Che è stupido Anche se è bellissimo Certo E magari però Ci faresti Del Può essere Non lo so Non mi è mai capitato Può essere Voglio entrare nel lato di nessuno No vabbè È normale Può essere Ma non mi è capitato Certo 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 No perché stavo parlando Proprio oggi Che sono andato a cena Da mia nonna E Era incredibile Come I nonni Le nonne E anche i nonni Forse Magari più le nonne L'unica esperienza sessuale Che hanno avuto È quella con il loro marito Tu sei d'accordo Su questa cosa? Un tempo si faceva così Cioè Secondo te Era giusto? Eh? Secondo te era giusto? Allora Il tempo era giusto Ma succede ancora adesso Che magari Qualcuno si sposa Con il suo primo amore Cioè Con il suo fidanzato Certo E tu sei una fiaggata? Sì Una sola volta E il tipo come stava? Bella che nessuno Che dove si riuscita Quando lo guardavi negli occhi Ti sorrideva Oppure ti faceva No no Siamo ancora Tanti amici Però Perché? Cosa vuol dire? Eh che siamo amici Sei rimasta amica Del tuo ex? Eh già Chi ha lasciato chi? Io lui Poverino E quando tu fai una foto Quante volte Cioè Quante foto ti fai Prima di Cioè sei una che controlla Molto le fotografie Oppure no? Sì tantissimo Quanto? Quanto lo posso fare Prima di postare E fare cose Ma Cioè Pensi di essere fotogenica? Allora Quello che mi dicono Sì Però Secondo me no Ah È un insulto in realtà Quindi vuol dire che tipo Dal vivo sei peggio No? No In realtà mi dicono tutti Che dal vivo Sono molto meglio Perché Non riesco a farmi Delle foto Belle Non capito Non capito Vabbè ci sta Ci sta E i tuoi DM come Perché io ho sempre pensato Cavolo Essere una bella ragazza È difficile Cioè da una parte bello Ma da una parte brutta Immagino che tutti i tuoi DM Siano complimenti da maschi Che ti dicono tipo Sposami Calpestami Picchiami Dammi tutto Ok come te la vivi? Cioè tu quando leggi un commento del genere Sei felice? Oppure tipo ti senti un po' Come dire Passami il termine toccata No Sono felice Se sono complimenti Sono felice Perché non dovrei Cos'è che ti dà fastidio leggere In chat Qualche messaggio che non ti piace No In realtà con me sono sempre tutti molto carini Cioè Probabilmente sono una capita Da tenere una parte Bella del web Con me sono tutti super carini Fai In un mondo Di cui c'è il tuo lavoro Per il fisso Sì perché ti sembra assurdo vero? No Perché? Cioè stai dicendo Come faccio Come fa con questo contenuto A fare dei numeri? No Non lo sto dicendo È questo quello che stai insinuando? No assolutamente Ho chiesto Ok Magari hai qualche altro lavoro? Ma Non avrai sempre fatto questo? No Una volta Ho tagliato il cespuglio Della casa in montagna Mi ha dato 50 euro a nonna Ok Quindi tu hai finito la scuola E hai detto Cosa faccio? Ah Apriamo Twitch No Tagliamo il cespuglio E dopo il cespuglio Apriamo Twitch Esatto Non hai fatto tante domande È stato easy Organizziamo una live dal vivo? Ok sì Cosa? Mi aspettavo altre domande Quelle un po' più peggiori Organizziamo la live dal vivo? Va bene Andata Hai la macchina? No C'è la mia Beh Ci sta Ci sta Giusto 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 Va bene Allora Mercoledì Live dal vivo qua Così? Non hai godato domani Ma devi andare a scuola Poi il giorno dopo Eh sì Ah cazzo No Allora no Si può fare Eh no Perché finiremmo Mezzanotte e mezza Non puoi Devi dormire Però vai a dormire di solito? Mantegli Verso mezzanotte Così Va bene Ah magari la facciamo venerdì Va bene Venerdì Ci sei? Dai non streamo io di solito di venerdì Eh Faccio un'eccezione Bene Ok Andata? Sì Bomba 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 Va bene Va bene Il sabato non vai a scuola O vai a scuola il sabato? Sì Allora Dimmelo No no Intanto entro Vabbè Però non ho problemi Il venerdì posso uscire Spito Puoi fare le Le due? Sì Ma che ora vai a scuola Il sabato? Al solito Però posso uscire il venerdì È una roba un po' strana Molto strana? Quali criptica devo dire Va bene Va bene Allora Dai posso Venerdì Forse facciamo la live Non ti vedo convinta Sarai tua Dovremmi iscrivere in DM Va bene Facciamo la live venerdì Io non ti scriverò niente Perché non voglio obbligare nessuno Io alzo sempre le mani al cielo E chiedo scusa a Dio Per avermi creato Io devo scrivere Sì 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 Non scriverò niente Non ti ricordo Non ti farò un reminder Se tu vorrai Lo scriverai Se no Puoi dire che ti sei dimenticata Non è un problema Io non voglio ovviamente Mi piace Scusa? Non mi piace scrivere Io alle persone Eh allora Non la faremo mai Pazienza C'è di peggio Mi spiace Sabato sera Cazzo sabato sera No venerdì sera C'ho No non posso Mi sa Una settimana dopo Però mi sa che sono a Venezia Per un Una gondola Vabbè No venerdì o No perché ti spiego Venerdì alle Quindici Di sera C'è Alle quindici di notte Ho la Alle quindici di notte Le cose La sera La sera del 20 Ho la partita di Di coso Di calcetto con Gli altri No non posso venerdì Beh magari faremo la settimana quella dopo Dai Appena organizziamo Perché anche Berlini Mi sa che non può esserci Me l'ha già scritto Che non c'è Capito Quindi magari Scusa? Niente niente No no dimmi tutto No 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 ma perché Ma aspetta un attimo Perché deve entrare Dai conosci Jody Dai dire ciao Ciao Alice Come va? Tutto bene te Bene Bene grazie Sono stato a un concerto Quindi bene Alice Muzza Dimmi tutto Allora Ma tu hai mai tipo Fatto un sogno erotico Lei vuole la sbura Le domande scuole Boh Boh Perché tu hai detto Che ti frequentavi Con Luca Campolunghi No Hai mai sognato Tipo Vabbè Niente Scusami Sono domande da fare Scusami No mi sono fermato prima Zio Basta Basta La cosa Tu che ormai è Quasi due anni Che fai live E che conosci tantissime persone Non hai capito che Alice È un pochino da trattare No Ridiamo eh Per non Piaggere Sì E Sì Perché è andato io? Perché le cacce No è La connessione Al dognocchi Non so se sai che c'è il filtro Il filtro famiglia Quindi purtroppo È andata via La connessione Madgia Oh è tornata E questo parla Ragazzi Da solo Assurdo Cioè nel senso Capisci le situazioni E capisci anche Fin dove puoi andare Tu stavi continuando A parlare intanto Sì certo Certo Giusto Noi non abbiamo capito niente Jody cosa ne pensi di dice Muzza? Mi hai Cioè Mi hai fatto una Un predict Sulla dice Muzza Tutti In generale Nella tua vita Se la tua vita Te lo dovesse permettere Un giorno Ti frequenteresti mai Con una ragazza Come dice Muzza? Ma non mi conosce neanche Esatto Ma veramente A pelle Che cosa ti posso dire? A pelle si vede solo Un attimo il carattere Per quello che abbiamo visto Nel live Che è molto comunque Sulle sue Un po' Cioè non è che È così esuberante In queste situazioni E si vede come lei È diviso Quindi non è che posso giudicare così Bene E tu Vabbè Ok No Non voglio farla Quella domanda Mamma mia La domanda No Aspetta dai Cosa Basta Basta Alì Cosa fa? Alicio Muzza Allora è il momento di salutarci Siamo arrivati ai saluti finali Mi dispiace che non organizzeremo Questa live dal vivo Perché non mi conosci Mi dispiace tanto Beh ma ci possono essere anche Delle live normali Così da casa Certo Va bene Alice Dai Ciao No Buonanotte Io non so cosa dire Non ti preoccupare Alì Anzi quasi mi dispiace Per te No Perché? No perché è un po' Cretino lui Vabbè Dai Ciao Ciao Vabbè ciao Alì Ciao 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 Applausi per Jody Arriva il brother Mi manca stare da solo In mezzo al mare Pure quando è mosso Prendi una barca per starci con me Voglio stare Certo No perché è un po' Ciao